Sono scesi dall'auto per sgranchirsi un po' le gambe nei pressi di Bagli Alpino lungo l'autostrada 1, ma al loro ritorno si sono trovati chiusi fuori dalla macchina, il tutto per colpa dei propri gattini. È successo questa mattina quando i mici della coppia sono stati liberati dal trasportino durante una sosta in una stazione di servizio. I gatti curiosi così sono andati a zampettare in auto e inavvertitamente uno di loro ha premuto il tasso della chiusura centralizzata, lasciando così i padroni fuori e con le chiavi ancora inserite nel quadro motore dell'auto. A quel punto è stato necessario chiamare i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che in poco tempo hanno sbrogliato la curiosa situazione ed hanno permesso alla coppia e ai gatti pasticcioni di proseguire il loro viaggio.